Buongiorno a tutti, io sono Tiziano e rappresento la Corvini Mededitore che per il secondo anno è al Pisa Book Festival. Quest'anno partecipiamo con due libri che sono appena usciti, che sono un libro di Giuseppe Cristaldi che si chiama Nefrotel, che abbiamo presentato l'altro giorno al Caffè Letterario, e un libro più DVD di Andrea Giovanni Eloi che si chiama La Promessa, è una storia di Paolo Pizzirani, giovane e promessa del calcio italiano. Questi due libri sono un po' le nostre due anime della casa editrice, una collana dedicata ai video e alla letteratura e una collana dedicata in modo specifico alla letteratura. I nostri contatti potete trovarci tranquillamente su internet al sito www.promomusic.it e siamo su Facebook alla pagina Promo Music Eventi. Buona prosecuzione a tutti!